Non solo i dati settimanali, anche il report annuale preliminare di Arpalazio pubblicato nel giorno scorsi consuntivo dei dati raccolti nel 2022 nelle 55 centraline gestite in tutta la regione dell'Agenzia fornisce un quadro più che tranquillizzante riguardo Civitavecchia. I dati delle 14 centraline che si trovano nelle diverse zone della città non figurano infatti tra quelle che hanno fatto registrare i maggiori sforamenti rispetto ai limiti di legge. In particolare per quanto riguarda il PM10 o particolato, le cose vanno particolarmente male a Frosinone, Cassino, Colleferro e Ferentino rispettivamente con 61, 56, 45 e 39 superamenti. A Roma il PM10 è stato oltre i limiti per 36 giornate nella zona di Tiburtina. Va ricordato che gli effetti sulla salute umana del particolato sono soprattutto di ordine respiratorio come tosse e catarro, asma, diminuzione della capacità polmonare, riduzione della funzionalità respiratoria e bronchite cronica insieme ad effetti sul sistema cardiovascolare. Riguardo i biossidi di azoto, inquinante legato soprattutto al traffico veicolare, il record di sforamenti si è registrato nella stazione di Eurfermi. Nessuno sforamento a Civitavecchia. Anche il biossido di azoto può avere effetti negativi sulla salute perché può provocare irritazione oculare, nasale, gola e tosse o alterare la funzionalità respiratoria nei bambini. Anche le persone asmatiche possono andare incontro ad alterazioni di funzionalità respiratorie. Per quanto riguarda il benzene, i valori non hanno mai superato la soglia in tutte le centraline della regione. Il livello maggiore è stato registrato nella Valle del Sacco, zona del Frusinate notoriamente con valori degli inquinanti particolarmente elevati. L'unica sostanza che risulta in eccesso nel territorio è l'ozono. Nel 2022 il limite di legge è stato superato per 39 giorni solo nella centralina che si trova dal Lumiere, in via Aldomoro. Per quanto riguarda l'ozono, gli effetti principali sulla salute umana sono irritazioni agli occhi, al naso, alla gola e all'apparato respiratorio, senso di pressione sul torace e tosse.